Ciao, quest'oggi voglio darti un consiglio. Può succedere in questo periodo un po' particolare che qualcuno venga a bussare alla tua porta e si identifichi come personale che gestisce le tue utenze domestiche, ad esempio la CEA oppure l'Enel, insomma gas e luce. Queste persone alcune volte arrivano anche in coppia e sono delle persone ben vestite, quindi vestite in maniera distinta con giacca, con cravatta e vi chiederanno sicuramente di vedere le bollette che avete già pagato e vi offriranno dei contratti più o meno vantaggiosi. Bene, queste persone sono dei truffatori, mi raccomando non aprite assolutamente quella porta. Il personale che gestisce le tue utenze domestiche non usa il sistema porta a porta per venire a offrirti degli sconti o dei contratti più o meno vantaggiosi, utilizza altre piattaforme, utilizza le email, utilizza il telefono. Quindi mi raccomando non aprire assolutamente a queste persone, anzi mi raccomando segnalale alle autorità competenti, chiama immediatamente qualcuno, i tuoi figli o appunto un vicino di casa, ma mi raccomando non aprire assolutamente la porta a queste persone. Mi raccomando anche rimaniamo a casa in questo periodo. Questo è un consiglio dell'ACLI di Roma. Ciao!